Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti nel meraviglioso format che per ogni rigore sbagliato bisogna togliersi un ultimento di Napoli! Oggi ragazzi siamo in quel di Napoli con tantissimi ospiti, creator soprattutto, guardate che fisici! Prossimamente ve lo dico, quello estivo sarà composto da solo ragazzi. Ma no, me lo ce ne devi chiamare, cioè mi devi chiamare. E quindi, stiamo qua per mostrarci in tutta la nostra bellezza, siete pronti? No, bene, il format lo conoscete, presento subito il portiere, portiere d'eccezione, quest'oggi il livello si ha, stai presentati, presentati al mondo. Vi ricordo che come nella scorsa puntata, chi segna 4 gol di fila si salva, si salva, non si dovrà più spogliare, si riesce a prendere, si gode. Allora iniziamo! Go! Ok ragazzi ci siamo, partiamo subito con il primo rigore, chi che voglio? Parto io, parto io, si. Allora io cercherò di non spogliarmi, però... Nudo! 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 Si è salvato! Ragazzi, sono Patrizio, ho l'hot dog lungo d'Italia. Verifichiamo! Verifichiamo! Ma è perché? Faccio esultare! Oh dog! Oh dog! Oh dog! Oh dog! Oh dog! Oh dog! Mamma mia! Ed è subito la maglietta per Patrizio! Ragazzi, non ho bisogno di presentazioni, come le mie doti tecniche non ne hanno bisogno. Vediamo! Prendetta! Ciao ragazzi, sono Fuse Gamer e ho l'hot dog più piccolo d'Italia. Verifichiamo! Ma in che senso? Verifichiamo! Ho il dubbio, mi sa che... Non ricordo se stamattina ho messo pure di Winnie De Poo o di... Verifichiamo! Ho avuto subito svelato il motivo per cui ha sbagliato. Hanno già sbagliato in due ragazzi al primo turno e non è ancora finita. Ragazzi, sono Shale Boom, non vedo l'ora di farvi vedere il mio fisico ricco di addominanti. Prendeciare! Prendeciare! Vado! Ma mica strana, Cadri! Il dico F non parla tanto! Non parla tanto! Parla e non... Vada, ti doi! Il dico, ne ti doi! Oh my God! Sexy! Ciao ragazzi, sono Super Alan e sono famoso per non saper calciare i rigori. Bene! Super Alan! Oh no! Hai confermato forse... Oh no no! Non ho capito, ma tutti diretti giù i pantaloni! No no no! Però lo dico perché nel senso... Cos'è perché? Che... È meglio farlo vedere dopo la pancia! Ok! Ma comunque c'è anche le scarpe, calzini... Allora, obiettivo di questo video, mio personale, è rimanere vestito per tutto il video! Ragazzi, ospite... Abbiamo un nuovo partecipato... Ospite inaspettato... Ospite inaspettato... Ti spiega, Samuel, perché siamo... Samuel, spiegami! Ospite inaspettato, colui che parteciperà anche lui in questo video... Io cucino! Ma le bimbi di Chef Franco vogliono vederti... Ah, sì, questo sì, lo so... Cioè, le mamme di Chef Franco, volevo dire... Ah, le mamme le mamme! Oh no! Dissociati! Non è quello che sento... Peggio... Chef, facciamo un tiro a morire, Chef! Un tiro a morire, Chef! 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 Che ha appena confermato a Chef Franco che se sbaglia si spoglia completamente nudo... Sbaglia! Questo contenuto potrebbe avere una svolta importante... Molto importante... E allora, ragazzi, proseguiamo con questa magnifica challenge e ora sta a me! Vai, gli vogliamo la maglia! Eeeh! 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 Ma te ma che c'è! Per tutte le donne vogliono vedere Crispo nudo? Per tutte le donne vogliono vedere Crispo nudo? Per tutto lasagna... Crispo... Crispo, oltre che bello è anche molto bravo! Eeeh! Eeeh! Eccolo per te! Lasagna, questa parmigia! Musichetta! Ora vi farò vedere come si infila il muster Ketchup maionese Babbo dai E attenzione Andrea per il secondo tiro Andrea Un attimo un attimo Decidi tu Non essere scontato Eh no non è scontato Ti manca la maglietta La maglietta Aspetta dai ci ho ripensato le scarpe No la maglietta E allora proseguiamo C'è una mamma qua pure Ti ando a ripensare No È nudo qua Intanto sono il più furbo di tutti Perché? C'è un completo della Fiorentina che è sbagliato Ho sbagliato apposta Per essere più bello e completo ragazzi Che non va? Dopo essermi sfidanzato fa vedere Allora Parito Il problema è proprio questo Che dopo essermi sfidanzato E cacciare il miseria Cerco di togliermi le scarpe No no E quindi via le scarpe Per Pierino Parteciale 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 Mamma La mette bene Què Sione parte Virgo Questa volta non sbagliamo Zitto Gnabri Ragazzi Chef Franco mi ha promesso una frittata di maccheroni Se sei Alla 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 E' uscito io 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 Allora ragazzi A fine video Secondo me il portiere mi udirà E quindi Terzo turno per Simone Prego Apri le danze Il tuo destino è delle tue mutande Mamma mia La classe non è acqua Prego Mamma mia Allora Andrea Rischia veramente grosso Rischia veramente grosso Rischia Veramente grosso Clamoroso signori Clamoroso Andrea Devi scegliere un Ragazzi sono tutto viola Tutto bello Cerchiamo di non rovinare Questo strepitoso Outlook Mamma mia E la parata c'è E la parata c'è E qui La maglietta per Pierino Non so cosa succederà Vediamo E allora parte Scele Non si vuole sbogliare Questo Mamma mia Scele Mirko Ragazzi Vado E allora parte Mirko Prendo come il ghiacciaio E dopo il primo turno Che ha sbagliato Si è ripatto signori Ragazzi se adesso sbaglio Penso che finisce il gioco Dai Che Hai Due In due In finita Ma come è possibile Nudo 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 Mi hai fatto un bannino Io No cosa Mi hai fatto un bannino Vogliono tutti che sbagliano Vogliono tutti che sbagliano Vogliono tutti che sbagliano Vogliono tutti che sbagliano Non devo sbagliare Vado a prendere lì Vado a prendere lì Ragazzi Questa è la situazione attuale Allora Abbiamo il nostro caro Andre Che è quasi lungo Mi mancano solo i calzettoni E' un americo che si è tolto i pantaloncini Super Allan anche E Patrizio Che mostra il suo gioco E allora Aumentiamo la difficoltà Si calcia sto giro di sinistra Let's go Voglio vederti Voglio vederti Via i pantaloncini anche per Patrizio Che li rimangono i 20 indossi Sta cominciando a diventare un video Per un'altra piattaforma E qua potrebbe finire il video Io mi fido di te Mamma mia E segna Schiazzando il portiere Ragazzi Già non sono buono col piede destro Figuriamoci col sinistro Guarda Questo Mito E quindi Pierino Si salva Avevamo la stasciale Ti è ancora vestito Mamma mia E segna anche questo Segna anche questa Tanto ragazzi Da notare La signora Mi stai divertendo Ma però È bello eh Non andiamo oltre E ora sta Mirko Attenzione Il pirata Che ce l'hai E anche Mirko casca sul sinistro Quindi Due cose No Puoi levarti i pantaloni se vuoi E quindi Scarpe per Mirko Super Allan Almeno un rigore Ma non posso Guardare potenza No 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 Ma il signor lo sta guardando Ma apri la polo È vero Signor Stai la maglia Ma ci sia Sbaglia Alla Sinistro Dai No E allora Inizione Via la maglia anche per me Oh Due bianche a levare la maglia Un nervio Sembra l'inizio di un video Sta cominciando a diventare un video Per un'altra piattaforma E allora ragazzi Mi sa che siamo giunti All'ultimo turno Perché alziamo ancora di più le difficoltà E quindi bisognerà togliersi due indumenti Se ne dica che chi È rimasto con due indumenti o di meno Non potrà sbagliare Mi spiace E allora Parte Simone signori Patrizio invece potrebbe perdere definitivamente Mamma mia E non perde nemmeno lui Mamma mia Andre quanto sei brutto Allora parte Andrea Che rigore Che segna E quindi non si sboglia ragazzi Non si sboglia La palla pesa Pesa 10 kg La palla pesa Oh Mentalità Ehi tutti i muti Signori Guardarvi nudi Solo Per me è un piacere Fate un po' schifo Parte Sciale Mamma Oggi è Sciale a un file E allora Mirko Sta di nuovo lui Mamma mia signori Da oggi in poi Giocano sempre senza scarpe E allora Mirko Mamma mia con che rigore Passa questo turno E adesso Tocca a Super Allan Che gli manca un indumento signori E se sbaglia è finita Non so Vai Sbaglia E allora Super Allan Potrebbe lasciarci definitivamente Bravo Tiro 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 E allora ragazzi Si conclude qua questo magnifico video Ha perso il nostro carissimo Super Allan Io ringrazio tutti quanti i ragazzi che hanno partecipato a questo magnifico video Venite pure qua Ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando seguite i canali di tutti quanti in descrizione E ci vediamo E fidatevi di off-summer E ci vediamo con un altro contenuto sul canale Ciao